Capucino Lius, calmi sangue freddi, questi tedeschi giocano, lo sappiamo, fino adesso li abbiamo tenuti bene, la difesa l'ha tenuta bene, chi è Florenzi? Florenzi chi è? Amico, senti, con tutto il rispetto, non venire in campo, non essere in forma, ma cambialo metti che andrebbe a zio cane, porco Giuda, oh, zio porco, se entrava con la palla, se entrava con la palla, nessuno ha paura, l'Italia vince, 1-0, i tedeschi vi succhiamo come succo di frutta, capito? Succo di frutta, figa se entrava con la palla, zio porco, Pelè, 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 Pelè cosa fai? I tacchi non vanno più, amico, tira avanti, fare i tacchi là, amico, poverino i giaccarini, sono tutti grossi, tutti grossi, vediamo se con il tempo dai, figa, abbiamo già avvento, è dura dai questi tedeschi che fanno paura, nessuno ha paura qua, amico, eh, tornate in campo, tolli Florenzi, metti che andrebbe, metti e salami, metti e salami, eh, e salami, eh, tornate in campo, amico, 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 amico,